Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la ressurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Santo Angelo, mio potente custode, per quell'odio sommo che nutri verso il peccato, perché offesa di Dio che ami con amore pure e perfetto, ottienimi un vero e continuo dolore dei miei peccati e un odio sommo per qualunque colpa, così che io non offenda mai più Dio, sino all'ultimo istante della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto. Ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia. Di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Spirito nobile, mio angelo custode, per quella felicità immensa che provi nel vedere sempre Dio, svelatamente, impetrami la grazia di camminare sempre alla presenza di Dio, in modo che io viva da perfetto cristiano, sino all'ultimo respiro della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. ame. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto, ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia, di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Esecutore esatto dei voleri di Dio e mio custode, per quel vigilante ed amoroso impegno, con cui adempi alla mia custodia, che ti è stata affidata da Dio, ottienimi la grazia di essere sempre impegnato, a conoscere e realizzare ciò che Dio vuole da me, sino all'ultimo istante della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto, ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia. di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Difensore Zelante, mio Angelo Custode, per il compito che Dio ti ha affidato, di custodirmi in tutte le mie vie, come una madre custodisce fra le sue braccia il tenero figlio, allontana da me tutte le occasioni di peccato, e liberami da tutte quelle situazioni che possono offendere Dio. Fammi camminare facilmente per la via dei divini comandamenti, sino all'ultimo momento della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. gloria al Padre, gloria al Padre, dei secoli dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto, ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia, di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Condottiero fedele, mio angelo custode, per l'incarico che Dio ti ha dato, di condurmi per la via del cielo, ottienimi la grazia, di seguire fedelmente e costantemente, i tuoi insegnamenti, sul male che devo evitare, e sul bene, che devo praticare, e non smettere mai, di stimolarmi alla virtù, sino all'ultimo respiro della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto, ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia, di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Mio amato amico, angelo custode, per il tuo grande amore verso di me, amando tu Dio infinitamente, e vedendo che Dio tanto mi ha amato, e continuo ad amarmi, ottienimi la consolazione, e la liberazione, dalle mie afflizioni, e la grazia di pregare sempre bene, al fine di ottenere le divine misericordie, sino all'ultimo istante, della mia vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre al Padre al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto, ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottenimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato, dalla pietà celeste. Amen. Intercessore efficace, Santo Angelo mio custode, per quello zelo che Dio ti ha comunicato, per la salvezza eterna della mia anima, impetrami la grazia, e la grazia di infondere con ardore e con prudenza nel prossimo il desiderio di salute spirituale, al fine di meritare così la beatitudine eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo momento di difficoltà, chiedo il tuo aiuto. Ti prego, intercedi per me presso il Signore, e ottienimi la grazia, di cui ho tanto bisogno. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, costudisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Santo Angelo custode, sin dall'inizio della mia vita, mi sei stato dato, come protettore e compagno, qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della mia celeste Madre Maria, e di tutti gli angeli e i santi, io, Povero peccatore, mi voglio consacrare a te. Prometto di essere sempre fedele e obbediente a Dio e alla Santa Madre Chiesa. prometto di essere sempre devoto a Maria, mia Signora, Regina e Madre, e di prenderla a modello della mia vita. prometto di essere devoto anche a te, mio santo protettore, e di propagare, secondo le mie forze, la devozione agli angeli santi che ci viene concessa in questi giorni, quale presidio ed ausilio nella lotta spirituale per la conquista del regno di Dio. Ti prego, Angelo Santo, di concedermi tutta la forza dell'amore divino, affinché ne venga infiammato, e tutta la forza della fede, affinché non cada mai più in errore. Fa che la Tua mano mi difenda dal nemico. Ti chiedo la grazia dell'umiltà di Maria, affinché sfugga a tutti i pericoli, e guidato da te, raggiunga in cielo l'ingresso della casa del Padre. Amen. Litanie al Santo Angelo Custode Signore a pietà, Signore a pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre Celeste, Padre Celeste, che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi, Trinità Santa, Unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, Regina degli Angeli, prega per noi, San Michele, prega per noi, San Gabriele, prega per noi, San Raffaele, prega per noi, Santo Angelo, che sei il mio custode, prega per noi, Santo Angelo, che mi ammonisci caritatevolmente, prega per noi, Santo Angelo, che mi consigli con saggezza, prega per noi, Santo Angelo, che mi proteggi nei pericoli, prega per noi, Santo Angelo, che provvedi alle mie necessità, prega per noi, Santo Angelo, che mi ami con tenerezza, prega per noi, Santo Angelo, che sei il mio consolatore, prega per noi, Santo Angelo, che sei un fratello per me, prega per noi, Santo Angelo, che mi istruisci sui miei doveri, prega per noi, Santo Angelo, che sei testimone nelle mie azioni, prega per noi, Santo Angelo, che mi soccorri in ogni occasione, prega per noi, Santo Angelo, che vedi continuamente su di me, prega per noi, Santo Angelo, che mi aiuti nei miei lavori, prega per noi, Santo Angelo, che intercedi per me, prega per noi, Santo Angelo, che sei il mio riparo nei pericoli, prega per noi, Santo Angelo, che mi insegni le verità della saggezza, prega per noi, Santo Angelo, Avvocato nostro, prega per noi, Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudisci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi, Santo Angelo custode, il Signore è nostro Dio, preghiamo, o Dio, attraverso una provvidenza ineffabile, ci hai inviato i tuoi santi angeli per custodirci, donaci la grazia di essere sempre difesi, da questi potenti protettori, e di gioire eternamente della loro vicinanza nella gloria del cielo, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Grazie a tutti.